nuova puntata oggi 14 aprile 2024 prima di incominciare voglio ricordarvi che se questi video vi interessano potete iscrivervi al canale youtube così come al canale telegram il vento di nord est e non dimenticate di visitare il sito il vento di nord est tutti i riferimenti sono facilmente trovabili nella descrizione qualche giorno fa in occasione di un altro video abbiamo avuto modo di utilizzare la parola strano e vedere come la stranezza sia presente nel contesto globale bene in questo caso in riferimento all'attacco iraniano avvenuto questa notte inevitabile dover tornare a questo termine perché la parola più adatta è strano tutto è strano sostanzialmente a partire da quel 7 ottobre 2023 quando hamas portava un attacco nei confronti di israele un attacco massiccio e da quell'attacco l'intervento quella operazione militare fortemente voluta da netanyahu e dal suo governo che ha prodotto sostanzialmente uno sconvolgimento della situazione nel contesto medio orientale lo sappiamo bene tutta la distruzione che è stata portata nella striscia di gaza e le migliaia migliaia e migliaia di vittime ma soprattutto aver riportato indietro anzi potremmo dire anche ad una esperienza sostanzialmente nuova perché un intervento così duro soprattutto che è andato a colpire il contesto della popolazione civile non si era mai visto e in una lotta che ormai dura da generazioni è difficile poter ipotizzare che all'orizzonte si possa un giorno tornare a vedere un dialogo che faccia appunto sperare nella pace gli odi generazionali sono destinati a continuare e la stranezza è proprio questa perché quell'intervento di hamas non poteva che provocare un intervento massiccio ad israele dando sostanzialmente anche se vogliamo l'occasione per andare a sistemare alcune faccende in quel contesto ma l'intervento così massiccio di israele e soprattutto il numero incredibile di vittime civili ha portato il mondo a cominciare a porsi l'interrogativo sulla stessa sostenibilità sostenibilità degli interventi di israele in questa occasione e se da un lato il blocco occidentale con gli stati uniti si è mantenuto sostanzialmente vicino ad israele poi successivamente invece le prese di posizioni soprattutto da parte del sud africa e da un contesto globale sempre più allargato ha puntato il dito proprio nella direzione di israele si potrebbe dire che netanyahu sia stato capace di far sì che il mondo si unisse nella contrarietà incluso l'onu con la voce che guttierres ha saputo portare in modo forte ed incisivo proprio nella direzione del governo di netanyahu ebbene in questo momento non solo il discorso si lega alle grandi alle grandi dinamiche del meccanismi della geopolitica ma anche il popolo israeliano che da settimane protesta protesta proprio nella direzione del governo netanyahu chiedendone le dimissioni chiedendo di andare a nuove elezioni perché ormai sembra decisamente evidente che lo scollamento di una visione politica e soprattutto di quelle che potrebbero essere le prospettive nel contesto dell'area non coincidono più assolutamente neanche con la volontà del popolo dobbiamo anche ricordare che prima di quel 7 ottobre lo stesso governo netanyahu era già in una fase di crisi e appunto di critica da parte del popolo israeliano ma successivamente le cose si sono susseguite e ovviamente la paura la paura dell'escalation è sempre stata lì ben che è presente questo termine escalation coinvolgimento ampliamento di una situazione che possa andare ad infiammare l'intera area del contesto medio orientale e sappiamo molto bene che se questo accade le influenze poi si ripercuotono in tutto il mondo e quello che appare nuovamente strano è stato quell'intervento quel raid israeliano portato nei confronti della sede consolare a damasco di dell'iran andando a uccidere alcuni vertici dei pazdaran iraniani anche qui non ci si poteva che aspettare una reazione da parte dell'iran come a dire tutte delle mosse che in realtà creano aspettative soprattutto delle realizzazioni che si potrebbero definire inevitabili però questo accaduto qualche giorno fa più di quasi due settimane fa e da lì c'è stata un'attesa un'attesa di questo attacco che veniva come dire preannunciato preannunciato come dire preparatevi che ci sarà questo attacco un po come era accaduto quando nel 2020 a seguito dell'intervento fortemente voluto da donald trump in iraq venne ucciso il comandante dei pazdaran iraniani generale solimani considerato una figura assolutamente di vertice nel contesto dell'iran ebbene anche lì la reazione iraniana ci fu ma fu una reazione che informava prima di quanto sarebbe si sarebbe fatto e quindi poi alla fine gli effetti furono limitati l'impressione che questi giorni che sono passati dal raid israeliano all'intervento iraniano di questa notte ebbene abbiano sostanzialmente una sorta di similitudine con quanto accaduto nel mese di gennaio del 2020 avvisare avvisare che ci sarà un attacco in questo caso un attacco massiccio per poter prendere le opportune come dire precauzioni ma è altrettanto vero che tutto questo ci porta inevitabilmente a degli interrogativi nel corso della notte centinaia di droni sono stati lanciati accompagnati anche da missili balistici ma gli effetti poi sono stati decisamente minori alle aspettative che avrebbero potuto portare se effettivamente tutti questi droni e missili avessero colpito i loro obiettivi 31 feriti nel a seguito di questa terribile nottata ma che poi di fatto ripetiamo rappresenta un qualche cosa che probabilmente si concluderà qui da parte dell'iran c'è stata la evidenza che l'intervento è stato portato in nome del principio dell'autodifesa e in nome di quell'attacco che gli israeliani hanno portato nei confronti della sede consolare di damasco appunto dell'iran dicendo anche che la questione si conclude qui ma se dovesse esserci una ripercussione un intervento da parte di israele ebbene tutto questo potrebbe ritornare a un punto di partenza e adesso si aprono gli scenari cosa potrebbe accadere potrebbe esserci un intervento di israele massiccio nei confronti dell'iran un confronto diretto tra iran e israele che di fatto storicamente non c'è mai stato una guerra tra iran e israele che poi sostanzialmente si è sempre manifestata come una guerra indiretta se se vogliamo ebbene le valutazioni sono tante perché da parte degli stati uniti nonostante la vicinanza ad israele per biden questo rappresenta un ulteriore problema oppure anche un'occasione perché se biden riuscirà a contenere la reazione di israele inevitabilmente un consenso elettorale negli stati uniti potrebbe anche arrivare sappiamo molto bene che nella competizione elettorale biden si trova in forti difficoltà con donald trump e soprattutto sta perdendo consensi da parte di quelli che sono da parte quelle che sono le componenti arabe americane che di fatto di fronte alla politica mal gestita da parte degli stati uniti da parte appunto di del governo di biden ebbene si allontanano progressivamente dal partito democratico e per biden questo rappresenta un grande problema ma se biden avrà la capacità di far sì che non ci siano ripercussioni se avrà la capacità di far sì che non ci sia un'estensione della guerra nel contesto del medio oriente bene forse qualche cosa come dire quella frenata nel contesto della campagna elettorale potrebbe anche arrivare stiamo assistendo in questo momento a delle prese di posizioni che possiamo dare per scontato giorgia meloni convoca il d'urgenza il g7 contemporaneamente e da arrivano con danni all'intervento iraniano da parte di tutti gli stati del blocco occidentale dalla germania da insomma da tutto il contesto ma non è quella condanna così forte che ci si aspettava se vogliamo in realtà si guarda con vicinanza a israele ma come a dire ad israele guarda quello che sta accadendo guarda quello che potrebbe accadere ma soprattutto pensa alle conseguenze se noi non ci fossimo perché questa è la realtà ci si aspetta per domani un'altra batosta potremmo dire così per quanto riguarda il rincaro delle risorse energetiche in questo caso legate agli aspetti petroliferi che andranno incidere nuovamente su una situazione già precaria del contesto dell'economia della produttività soprattutto dell'europa e da qui le valutazioni diventano sempre più ampie ma quello che l'iran è riuscito a fare in questa occasione è stato quello di riuscire a unire a unire diverse componenti medio orientali in una manovra militare che ha avuto un senso più politico che strategico nel termine delle operazioni militari come lanciare il segnale noi siamo pronti noi siamo in grado e il contesto intorno a noi ci è vicino nella notte contemporaneamente sono stati portati dagli attacchi anche da parte di Hezbollah che di fatto hanno evidenziato una guerra israele di ampia portata nell'ampio nell'ampio contesto del medio oriente senza un aiuto soprattutto statunitense non è ovviamente in grado di sostenere ma in questo momento però non possiamo dimenticare che c'è anche l'incremento del malessere definiamolo così del popolo israeliano perché di fronte a questo a quanto accaduto in questa notte ma soprattutto a quella prospettiva di una paura per il futuro perché se vogliamo l'effetto dirompente che ha avuto l'attacco iraniano è stato proprio questo creare la paura per il futuro la potenziale situazione di trovarsi in forte inferiorità e soprattutto la necessità di avere alle spalle il blocco occidentale è ovviamente gli stati uniti ma questo blocco occidentale poi quanto potrebbe affiancheggiare israele in un eventuale conflitto su vasta scala nel contesto del medio oriente quando l'impegno in ucraina è lì benché presente come a dire o da una parte o dall'altra entrare in un contesto di conflittualità doppio di questa intensità rappresenterebbe un qualche cosa sostanzialmente di improponibile e se vogliamo ovviamente una situazione di questo tipo toglie nuovamente l'attenzione nei confronti dell'ucraina là dove invece la russia continua ad avanzare e il blocco occidentale ha mostrato tutta la sua debolezza e incapacità strategica a partire proprio da quel da quell'inizio forse più l'europa che gli stati uniti dobbiamo sottolinearlo perché magari in una puntata successiva vedremo anche le strategie che gli stati uniti portano normalmente nei loro interventi in quello che poi segue ai loro interventi e inevitabilmente ovviamente tutta l'attenzione è concentrata non solo mediatica ma anche per quanto riguarda le risorse militari nell'ambito del del medio oriente e senza tralasciare poi un altro aspetto che la questione di taiwan viene poi sostanzialmente relegata relegata perché non c'è la possibilità di essere su tre livelli su tre fronti potremmo definirlo quello europeo in ucraina quello medio orientale nel contesto di israele e poi quello dell'estremo oriente con taiwan forse il blocco occidentale mostra le sue linee di strategia le sue linee di programma ma contemporaneamente probabilmente cominciamo a vedere delle linee invece più importanti portate da quelli che sono i brics perché non dimentichiamo cina russia ma anche l'iran che guarda con grande attenzione alleato se vogliamo con la russia che guarda la cina che soprattutto fornisce anche di risorse petolifere la cina in un momento in cui appunto tutti questi giochi vanno a concludersi in quella che è la presidenza di biden con la campagna elettorale non possiamo dimenticare che proprio a partire da quel 2020 quando biden vinceva le elezioni ebbene tutto incominciava e tutto incominciava con una grandissima corsa agli armamenti per oggi abbiamo concluso